Nicolà Barò, Parigi è sempre una buona idea. Capitolo 27. Quel pomeriggio Max Marchet fece un viaggio indietro nel tempo, tornò nella Parigi degli anni 70, da un giovane giornalista che passava il tempo nei caffè, fumava troppe sigarette, si guadagnava da vivere lavorando nella redazione di un giornale, e da una giovane americana con i capelli biondi e scintillanti occhi verdi, che i genitori avevano mandato a Parigi per le vacanze estive e aveva un pessimo senso dell'orientamento. Marchet si sorprese del fiume di immagini che di colpo gli inondarono la memoria, e era talmente assorbito dai ricordi da non accorgersi quasi più della presenza di Robert e Rosalie che lo ascoltavano ipnotizzati. «Ho conosciuto Rosa perché si era persa», disse. «Ero in un caffè vicino a Rieu, Oguero. All'epoca abitavo lì, in due stanze in affitto al quarto piano, una casa minuscola paragonata a questa», sorrise, indicando con la mano la vila alle sue spalle. «Ma quanto mi sono divertito!» Invitavo spesso gli amici, ogni tanto anche una ragazza, e la mattina quando mi svegliavo e guardavo fuori dalla finestra, la prima cosa che vedevo era la Tour Eiffel. Non l'ho più avuta, una vista come quella. Si appoggiò alla spalliera, assorto. «E scusate, sto rivagando. Quando si comincia a parlare del passato, viene a galla tutto. Stava raccontando di come ha conosciuto mia madre, monsieur Marchet», intervenne Robert. «È giusto!» E rivide Ruth con un vestito rosso che camminava per la strada. «Vidi sua madre per la prima volta in un caldo pomeriggio d'estate. Indossavo un vestito rosso, piccoli pois bianchi. Aveva in mano un'enorme guida di Parigi, e ogni pochi passi si fermava, girava la cartina da tutti i lati e controllava i nomi delle strade. Quando per la terza volta passò davanti al caffè dove ero seduta a leggere un libro, mi alzai e le chiesi se potevo aiutarla. Le sospirò sollevata e mi guardò con quegli occhi verdi da gatta che davano a suo viso delicato un fascino tutto particolare. «Credo di essimi persa», disse e rise. «La sua risata era straordinaria, piena di ottimismo e allegria. Mi conquistò immediatamente. Vorrei andare alla Tour Eiffel, da questa parte, vero?» Guardò di nuovo la cartina e indicò, decisa nella direzione sbagliata. «No, mademoiselle, e dalla parte opposta, proprio là dietro», risposi. Poi chiusi il libro. «Venga, l'accompagno io, altrimenti non la troverà mai». Max sorrise. Iniziò tutto così. Durante le quattro settimane successive portai in giro Ruth ogni volta che potei. Le feci visitare la città e una miriade di musei. Scosse la testa divertito. «Mon Dieu, penso di non aver mai conosciuto nessuno patito come lei. Alla fine avevo visto musei che nemmeno sapevo esistessero. Ruth amava la pittura. Le piacevano soprattutto gli impressionisti. Monet, Manet, Bonnard, Cézanne. Andavamo spesso al Jus de Pomme. All'epoca la collezione era ancora lì. Era capace di restare seduta per ore davanti a un dipinto, senza dire una parola. A un certo punto voltava la testa sorridendo. «Non è pazzesco», diceva. «Deve essere una gioia incredibile e riuscire a creare un simile capolavoro. Io annuivo e pensavo che la vera gioia era stare seduto accanto a lei, sfiorarle il braccio come per caso o prenderle la mano e respirare il suo profumo». Guardò Robert e Rosalie. Non so se era un profumo particolare, ma sapeva di sussine Mirabelle. Era indescrivibile, incantevole. Non ho più incontrato una donna che profumasse di Mirabella. Sospirò. «Certe cose capitano una sola volta, per questo sono un ricordo prezioso». Si accorse di avere la gola secca e tossì. È stata una storia d'amore delicata, fatta di pochi baci, ma tutto era molto più intenso di tante cose che ho vissuto dopo. Ero felice quando guardavo il suo viso o il fine settimana passeggiavamo mano nella mano nel Giardin del Bagatelle, il suo parco preferito. Notò che Rosalie lanciò uno sguardo d'intesa a Robert e per un attimo si chiese quali fossero esattamente i loro rapporti. Oggi probabilmente sembra assurdo, ma ero felice anche solo di aspettarla seduta al tavolino di un caffè. Gli cadde lo sguardo sui piatti ancora vuoti. «Prego, prendete una fetta di torta, sono un pessimo padrone di casa». Rosalie tagliò la tarte tatin. Lei e Robert mangiarono una fetta gustando le mele caramellate sulla pasta brisè, mentre Max spezzettò la sua con la piccola forchetta d'argento e la lasciò lì senza assaggiarla, di nuovo perso nei suoi ricordi. «Non è strano provare una felicità così grande pur sapendo che non ha futuro», riflettè. Guardò Robert che masticò in fretta l'ultimo boccone e lo fissò. «Già, l'amore tra me e sua madre era un amore impossibile. Si sarebbe limitato a poche settimane e lo sapevamo entrambi, fin dall'inizio, il primo giorno, quando l'accompagnai alla Tour Eiffel e dopo le chiesi se le andava di bere un bicchiere di vino con me, mi spiegò che era fidanzata. In America l'aspettavo un uomo, un uomo per bene, simpatico, di buona famiglia, un avvocato di successo che la trattava come una regina e che alla fine dell'estate l'avrebbe sposata. «Purtroppo sono già impegnata di star ridendo, non c'è nulla da fare. Ora però sei qui a Parigi», replicai, scacciando il pensiero del fidanzato dall'altra parte dell'Atlantico. Eravamo consapevoli che tra noi non poteva durare, ma le presi lo stesso la mano e le chiesi lo stesso un bacio, solo uno, quella sera sul Baton Mouche, mentre ci volavamo sulla Seine e la Tour Eiffel svettava sopra di noi, tanto vicina che sembrava di poterla abbracciare. Sospirò felice e lei mi baciò, ci innamorammo e ci abbandonammo a quell'attimo come se non dovesse finire mai. «Ma poi finì», commentò Robert. Max attacque e pensò a Ruth che andava all'aeroporto in taxi sotto una pioggia torrenziale. Non aveva voluto che l'accompagnasse. «Lo sapevi che sarei dovuta tornare in America», le aveva detto la mattina della partenza, bianca in viso. «Sì, lo sapevo. Il suo cuore si era contratto, come inondato da una secchiata di acqua gelida. Lei si era morse il labbro, incapace di sostenere il suo silenzio. Potremmo scriverci ogni tanto». Aveva azzardato fissandolo negli occhi con espressione supplichevole. «Non rendere tutto ancora più difficile», diceva con lo sguardo. «Sì, certo», aveva risposto, e lei si era sforzata di sorridere, anche se sapevano entrambi che non ci sarebbe stata nessuna lettera. Era stato un momento di infinita stristezza, e poi lei gli aveva accarezzato delicatamente una guancia, e lo aveva guardato per l'ultima volta. «Non ti dimenticherò mai, mon petit tigre, te lo prometto». Poi se n'era andata, chiudendosi la porta alle spalle senza fare rumore. Max sorrisse nostalgico, e si accorse che Robert lo stava ancora guardando in attesa di una disposta. «Sì, l'attimo finì», disse con semplicità. «Ruth uscì dalla mia vita esattamente come era entrata, con incantevole leggerezza, e io rimasi con le due parole più tristi che conosco da allora. Mai più». La lasciai andare perché non mi rendevo conto di quanto fosse norma quella perdita, perché credevo che le cose non potessero essere cambiate. Ero ancora giovane e inesperto, pensato che non esistesse via d'uscita. Forse avrei dovuto lottare per lei, anzi sicuramente, solo quando hai perduto qualcosa per sempre, ti rendi conto di quanto fosse importante. Vide Robert a nuire. E poi ha sposato Paul, mio padre. Non si è più fatta sentire. Marce scosse la testa. «Non ho più avuto sue notizie fino ad oggi», concluse. «Ma se adesso ripensa quell'estate, so che sono state le settimane più belle che abbia mai vissuto. È impossibile descrivere la pienezza di quei giorni. Sorrise. Erano le macchie di colore della mia vita. Del resto l'avevo capito già allora». Seguì un lungo silenzio. Il sole era sospeso come una palla rossa sopra il vecchio muro di pietra che proiettava la sua ombra in fondo al giardino. Max avvertì una fitta di dolore all'anca, ma la ignorò. Continuava ad osservare l'uomo seduto accanto a lui, le mani unite davanti alla bocca e lo sguardo fisso su un punto lontano, oltre il triangolo delle dita. Era chiaro che cercava di assimilare quanto aveva appena ascoltato. «Mia madre non mi ha mai raccontato nulla», disse dopo un po'. «Ho sempre avuto l'impressione che i miei genitori fossero felici insieme e loro erano un bel matrimonio, non litigavano mai ed erano molto complici. Max a lui, ne sono sicuro. Nella vita si possono provare varie forme d'amore. E di certo il cuore di sua madre era grande abbastanza per far felici molte persone. Suo padre era un uomo invidiabile, Robert. «E la tigre azzurra?» domandò Rosalie. «Già, è vero, la mia piccola storia è stata la prima che ho scritto. L'ho data a Ruth uno degli ultimi giorni, quando siamo andati a fare un picnic ai Giordano de Bagatelle. Era una bellissima giornata, l'aria odorava di pioggia ed eravamo bagnati e fradici perché c'era appena stato un acquazzone, ma il sole asciugò in fretta i nostri vestiti. Max ricordava ancora che si erano seduti su una coperta quadristesa sull'erba, sotto un vecchio albero, su un'altura non lontana dalla grotta dei 420. Il posto l'aveva scelto lei, aveva detto che era perfetto per un picnic. Ruth aveva una polaroa, andavamo molto di moda, andavano molto di moda in quegli anni e io le scattai una foto che poi mi lasciò, credo di averla ancora. «Sì, mi sembra di avere l'intravista nella scatola», buttò la Rosalie. «E quel pomeriggio le regalai la storia della tigra azzurra», proseguì Max. «Avevo fatto rilegare l'originale e tenuto una copia per me. All'inizio su frontespizio c'era scritto a Ruth, che non dimenticherò mai. Poi però pensai che una dedica del genere fosse troppo esplicita. Così cambia il foglio e scrisse solo a R. Max si lisciò la barba, imbarazzato, e guardò Rosalie, cosa che in seguito avrebbe causato alcuni equivoci. Lei sorrise e Marcy sperò che gli avesse perdonato quella piccola menzogna nata dalla vanità. Non aveva voluto ammettere di essere ricorsa a una vecchia storia perché non aveva più idee. Inoltre l'aveva lusingato vedere Rosalie così felice e della dedica che credeva rivolta a lei. Ma se la storia fosse stata nuova, naturalmente gliel'avrei dedicata con molto piacere, mia cara Rosalie. Anch'io devo confessarle una cosa. Mi dica. Il modo di incurire mi ha ricordato immediatamente Ruth. «Ah sì», commentò Rosalie e arrise. Robert si agitava il requeto nella poltrona. Non era difficile capire che qualcosa lo turbava. «Quindi la storia che mia madre mi raccontava tutte le sere in realtà parlava di voi due. Max a noi. Ma poteva capirlo solo chi lo sapeva. Ruth era la piccola Eloise con i capelli dorati, che credeva nella sua tigra azzurra, la tigre delle nuvole. Sorrise. E la tigra ero io. Ogni tanto mi chiamava Montpetit tigre, mi piaceva. È il paese lontano che non si raggiunge nemmeno con l'aereo, ma solo con il desiderio. Era il nostro», terminò Max per lui. «Speravo che in questo modo Ruth non mi dimenticasse. E mi pare di capire che non l'abbia fatto. Annui e i suoi occhi brillarono di una luce particolare, che adesso anche il volo di notte sopra Parigi aveva acquistato un nuovo significato. Non lo disse. Una notte avevano volato insieme. Una magica e inebriante notte da sogno che sarebbe dovuta bastare per tutta la vita. Si erano separati solo all'alba, che aveva già il gusto amaro dell'addio. Lei aveva mantenuto la promessa. Un timido sorriso balenò sul viso di Max. «Spero non me ne voglia, Robert, se sono felice che Ruth non mi abbia dimenticato. Così come sono felice di conoscere suo figlio, sua madre è stata molto importante per me. Posso vedere la foto? E quella ai Giardin de Bagatelle. Ma certo, se Rosalie sarà così gentile da prendere la scatola sopra l'armadio e non sono ancora pronto per le arrampicate». Rosalie si alzò e andò in camera da letto, mentre Max guardava con comprensione l'uomo al suo fianco, che aveva intrecciato le dita e continuava a distenderle e ripiegarle stringendosi il dorso delle mani. Non era facile essere presi così in un contropiede dal passato. specialmente se su quel passato non avevi avuto alcuna influenza. «Perché non me lo ha detto?» domandò infine Robert. «Non ero più un bambino ed era successo tanto tempo prima. Avrei capito». «Non ci pensi più, ragazzo mio. Sono sicuro che sua madre ha fatto la cosa giusta. Era una donna splendida. Già allora deve averla amata molto, altrimenti lei non sarebbe la persona che è oggi». Vide Robert a nuire pensieroso. «Eh sì, forse ha ragione», disse, «e il suo viso si rasserrenò». Pochi istanti dopo tornò Rosalie. «E questa?» chiese, posando sul tavolo una foto dai colori sbiaditi. E due uomini si chinarono in avanti. «Sì», rispose Max, «è la foto che le ho ha scattato quel giorno». Robert la avvicinò agli occhi e a noi. «Sì», disse anche lui, «è mia madre, senza dubbio». Il suo sguardo indugiò sulla giovane donna che rideva sotto un grande albero rivolto all'obiettivo. «Santo cielo! Questa risata», disse asciugandosi gli occhi, «non l'hai mai persa». Il sole stava tramontando quando Max Marchè salutò gli ospiti. Robert aveva chiesto di poter vedere il posto dove era stata scattata la foto di sua madre e avevano deciso di andare tutti insieme al Guado Bologna il giorno dopo. «Non è un problema ritrovare l'albero», aveva assicurato Max. «Spero solo di riuscire ad arrivarsi con questi stupidi attrezzi», aveva aggiunto indicando le stampelle. «Ma sì che ce la fa, altrimenti la spingiamo di sicuro o non leggiamo sedia a rotelle», aveva detto Rosalie, e la risata che era seguita aveva qualcosa di molto liberatorio. Poi lei e Robert erano saliti in macchina. Max era rimasto sulla soglia e li aveva guardati partire. La vita continuava, continuava sempre, andava avanti come una fiaccola passata di mano in mano in una staffetta infinita finché non raggiungeva la sua destinazione. Marchè tornò in terrazza, zoppicando, e si sedette di nuovo nella sua poltrona di vimini. Il fresco della sera calava sul giardino. Max fissò assorto la fotografia sbiadita sul tavolo. Si appoggiò alla spalliera e chiuse gli occhi per un attimo. Vide un uomo e una donna, giovani e spavaldi. In un giorno di sole al Boa de Bologna erano seduti su una coperta a quadri sotto un vecchio castagno. La coperta pizzicava, ma solo un po'. Ruth indossava il vestito rosso a po' a bianchi, che a lui piaceva così tanto, e la sua bocca era quasi altrettanto rossa. Rideva. La luce filtrava tra le foglie e disegnava piccoli cerchietti luccicanti sulla coperta e sulle sue gambe nude. Si era tolta ai sandali. Un uccello cantava. Il cielo era più azzurro dell'azzurro. Una nuvola bianca si muoveva senza fretta. Era un magnifico pomeriggio d'estate, talmente perfetto che sembrava impossibile dovesse finire. La leggerezza che avvolgeva ogni cosa si poteva quasi toccare, e Max sentì che all'improvviso anche il suo cuore diventava leggero, così leggero che avrebbe potuto volare. Aprì gli occhi e si accorse di amare la vita come non gli succedeva da tempo. Sì, amava quella vita, che a volte era molto, e altre meno di niente, ma era tutto quello che c'era. Prese la foto, poi la girò e guardò la scritta a matita sul retro. Bua de Bologna, 22 luglio 1974. Arrestò seduta a lunga a fissare il tramonto, e un pensiero, che nel pomeriggio l'aveva sfiorato come una delicata mano femminile, di colpo lo schiacciò.